buongiorno a tutti ben ritrovati alla prima edizione di calabria news 24 in forma vediamo insieme il nostro sommario vincenzo soffo della lega diventa euro parlamentare l'isola del sorriso a crotone per l'odontoiatria pediatrica dieci anni di michele affidato al festival di sanremo giro d'italia 2020 spezzano e camigliatello si illuminano di rosa apriamo con la politica la lega prende sempre più piede in calabria non solo vincenzo soffo di origini calabresi si appresta ad entrare nel parlamento europeo vediamo che sia un buon momento per la lega in calabria è fuori di dubbio le elezioni di domenica scorsa hanno sancito l'ingresso del partito dei salvini per la prima volta in consiglio regionale tra l'altro in una coalizione vincente e mentre si lavora anche per l'ingresso in giunta un calabrese della lega si appresta a entrare nel parlamento europeo si tratta di vincenzo soffo 34 anni milanese ma di origine calabrese che si era candidata all'europea nel 2019 nella circoscrizione sud ottenendo 32 mila preferenze 20 mila delle quali in calabria soffo conosciuto anche per essere fidanzato di mariolle pen nipote dell'esponente politico francese e molto presente in calabria nella recente campagna elettorale entra grazie alla brexit da febbraio infatti gli europarlamentari inglesi lasceranno e se parte dei seggi sarà riservata a esponente di altri paesi che entreranno nell'unione europea tre dei restanti spettano all'italia insieme a lui anche sergio berlato di fratelli d'italia e salvatore de meo per forza italia cambiamo argomento e ci spostiamo a crotone dove il marrelli hospital ha previsto uno spazio dedicato ai bambini che si apprestano ad affrontare cure odontoiatriche ci aspettiamo che tanti bambini giungano presso questo reparto per approcciarsi in maniera diversa all'odontoiatria e l'esigenza era profonda perché spesso quello che già per un adulto può essere un evento traumatico quello di recarsi dal dentista abbiamo pensato potesse diventare invece un momento di incontro per i piccoli pazienti approcciandoli come gioco ci possono raggiungere e si possono divertire il bambino viene come a una ludoteca non ha l'idea di andare dal dentista poi ovviamente da cosa nasce cosa il bambino viene preparato viene trattato e viene in un certo senso abituato all'idea di dover poi venire a trovarci periodicamente per divertirsi ma anche per fare i suoi controllini periodici restiamo a crotone dove la scuola biblica diocesana ha organizzato un incontro sulla conoscenza del vangelo. Don Serafino in questa serata della scuola biblica diocesana in questo incontro si parlerà del vangelo di Marco quale attualità è per oggi questo vangelo? Intanto dico sì che stiamo parlando del vangelo di Marco e poi parleremo del vangelo di Matteo perché questo programma è inserito in un ciclo triennale l'anno scorso abbiamo guardato all'ambiente del nuovo testamento cioè quell'humus all'interno del quale sono nati tutti i vangeli poi abbiamo scelto di guardare soltanto i cosiddetti vangeli sinottici quei vangeli che si rassomigliano con qualche differenza di Marco Matteo e Luca e quindi quest'anno tocca Marco e Matteo l'anno prossimo l'opera lucana per la verità il vangelo di Luca e gli atti degli apostoli. Dentro questo piano stiamo parlando del vangelo che è sempre di grande attualità perché è una parola che stimola il credente a reagire alla provocazione di Dio e la provocazione di Dio per il credente è quella di metterlo in moto quindi mettere il dinamismo di Dio dentro la vita del credente perché possa guardare la realtà non come un aspettatore ma invece come un protagonista mettere diremmo proprio le mani in pasta e questa immagine è anche un'immagine che richiama il vangelo il vangelo di Matteo il lievito la pasta quindi essere dentro la storia come un po di lievito che però fa fermentare tutta la pasta. Buone notizie per la cultura e l'arte in Calabria nell'ultimo periodo è in aumento il numero dei visitatori nei musei. Aumento dei visitatori in tutta la Calabria e il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria al top. Sono questi alcuni dati resi noti dal Ministero per i beni e le attività culturali che ha evidenziato come i visitatori di musei e siti archeologici in Calabria siano aumentati del 6,3% dal 2014. Dai 400.643 visitatori del 2014 si è passati infatti ai 427.102 del 2019. La top 10 regionale del 2019 vede in testa il Museo archeologico nazionale di Reggio con 227.021 ingressi seguito dalla Cattolica di Stilo con 30.662 mentre al terzo posto si piazza il Museo archeologico nazionale di Vibo Valenzio con 24.063. Dunque un distacco considerevole fra il Museo di Reggio e le altre bellezze visitate. Nella top 10 al quarto posto il Museo e il Parco archeologico nazionale di Capocolonna seguito dalla Galleria nazionale di Cosenza, dal Museo archeologico di Crotone e dal Museo di Locri. Chiudono la classifica alle Castella, il Museo archeologico Sibaritide e il Museo e Parco archeologico di Scolacium. Per il decimo anno consecutivo il maestro orafo crotonese Michele Affidato si occuperà della realizzazione dei premi per il Festival della Canzone Italiana Sanremese. Michele festeggiamo questi dieci anni di Sanremo con le tue opere che chiaramente sono un segnale bello non solo per te ma per tutti noi. Sì, a noi ci fa piacere che almeno da dieci anni veniamo contattati per realizzare i premi speciali del Festival. Sono tante le opere che abbiamo realizzato in tutti questi anni premiando il GOTA della musica nazionale e internazionale e quest'anno siamo veramente felici che arrivano queste nuove commissioni. Ci riconfermono i due premi della critica Mia Martini, due premi molto importanti che vengono consegnati dalla sala stampa dell'Ariston e sono dei premi che vengono consegnati sia per la categoria sezione campioni che per la categoria nuove proposte. Abbiamo realizzato questa scultura che raffigura una chiave di violino con il leone, questo per simboleggiare sia con la chiave la musica ma con il leone il simbolo della città di Sanremo. Oltre a questi quest'anno una novità sono i due premi che ci hanno commissionato per la sala stampa Lucio Dalla, anche questi sono dei premi che consegna la stampa e questo veramente per noi è stato come dire una ciliegina un po' sulla torta nel senso che non solo nell'arte riusciamo a esprimere quello che è la nostra arte con i nostri premi ma a ricordare due grandi personaggi come Lucio Dalla e Mia Martini veramente questo mi emoziona. Poi specie Mia Martini, un orofo calabrese che realizza i premi per Sanremo e poter ricordare e mantenere vivi i ricordi di questa grande artista calabrese veramente per me mi emoziona tutto questo. In Calabria il santuario di San Francesco di Paola a Spezzano Sila e la villetta di Camigliatello Silano si sono accesi di rosa per il Giro d'Italia. Infatti proprio a Camigliatello è previsto l'arrivo di una delle tappe della centotresima edizione della competizione nazionale. In Calabria tra i monumenti che si sono accesi di rosa in occasione del Giro d'Italia troviamo anche il santuario di San Francesco di Paola in Spezzano Sile e la villetta di Camigliatello Silano in provincia di Cosenza. Infatti proprio a Camigliatello Silano è previsto l'arrivo di una delle tappe della centotresima edizione del Giro d'Italia edizione 2020. Più precisamente il prossimo 15 maggio la Mileto per l'appunto Camigliatello Silano. Un appuntamento importante che porrà al centro dell'attenzione la nota località turistica della Sila a Cosentina. L'ultima volta lo ricordiamo che Camigliatello Silano ha ospitato una tappa del Giro d'Italia risale al maggio del 1982. Per l'esattezza si trattò dell'undicesima tappa della Corsa Rosa e i corridori partirono da Palmi e arrivarono in Sila dopo 229 chilometri. Una tappa che se la giudicò il francese Bernard Beccat, mentre la maglia rosa, seppur momentaneamente, è indossata dal compianto Francesco Moser. Alla fine di quell'edizione il Giro venne vinto da Bernard Hinault. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie per essere stati con noi.